Grazie a tutti i ciclisti e i ciclisti, e naturalmente anche a tutti i turcetti. È una scena flotta, se volete vedere quattro anni. Quanti vellos ci sono qui? Qui sono circa mille vellos. Qui è la borsa del vellos a cuore. Ma quando ci sono cinque anni, ho scusato tutto a cominciare, da circa circa trecenti. E ora per ora ci sono stati più. L'idea è quella di vendere e comprare quattro vellos. L'aventura viene in questo, ci lasciano vendere il vello. E l'aventura c'è la città di vendere e comprare il vello. 3, 2, 1, 2, 1. E qui è la città di vendere e qui è la città di vendere. E qui c'è la città di vendere e qui c'è la città di vendere. ci aiutano qui con l'importanza. Il nome è Strada. Ma, pssst, siamo nulla del viati? C'è lungo rosso. C'è lungo rosso. C'è lungo rosso. C'è lungo rosso? Io sono la Strada. Non ci sono anche che ho fatto un nuovo pollo. Oh, hoppala. Che marchi? Che puro domande? C'è lungo rosso. Il e di questi, in un'ordine parlando di soli è un calcolo rosso. In un'ordine parlando di soli rosso. che s'èmca mai pelviati. Quello lavoro ne ha già un po' simpolo, che è un lavoro semplice. E ci vediamo come fitte che sono. Prezise, a poco in ordine, stanno i asseris velos che vutano in giù l'Africa. Velos rutsi vanno direttamente in giù l'Africa. Io preparo i vieti, che spazzo in l'Africa. In una misura per velo, lascia Alex e i sui colleghi, che vuole funzionare. In un'altra misura, che si vengono, che si vengono, che si vengono, che si vengono, che la luftica sia o che non è. Il velo è un'altra persona privata, ma è un esempio della Polizia. In un'altra misura in Menderlanda, in un'altra strada. Il velo è un po' simpolo. Il velo è un po' simpolo. Il pedale a la ruta della vanta, è un po' simpolo. Il velo 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 è un po' simpolo. Il è un ruolo, che non è un lavoro, ma è un lavoro. Ciò ciò che è un tempo, è semplice in un'azurabile. Voi, sono credo in un'azurazione, che è stato molto più di legume, che è ancora un ruolo preciso, che è stato molto più divertente, ma è ancora molto molto divertente. Come si è stato rumpito in due ore, è stato anche in un'azurazione di lavoratori, che è stato un'azurazione di Vela-Africa. Sì. Qui imprendono i ragazzi di riparare i ragazzi e hanno chiesto a lavorare. La ragazza è arrivata in ragazzi che non si trova tra noi, in l'Africa in Nove Sena, e che all'arriamo con un poeta in una vita più semplice. Ma in una voce lavoratoria di ecograzione, qui è Alex Vito, che non si trova con la strada. I ragazzi sono arrivati con un grande container per me. L'arriamo con l'arriamo con l'Africa con un mio amore possesso. Giù l'arriamo, siamo arrivati. La prima strada è stata anche spiegata. La prima strada è un depo che c'è il Velo che è pronto. Pi grande come tutti. E per provare ora il mio nuovo velo, prendete quella giusta e venite al studio di Minisquart. Oh, wow, c'è bello! Sì, queste sono le giuste polari. È normale, ma anche in Svece, quella giuste qua, però no. Non è per sé sud e venti al nord. Ma voi sapete, un Minisquart è tutto possibile. Però, l'evento passato è una capitale tutta faccia speciale. Le belle giuste polari di diversi colori sono vissi in Germania. Un fenomeno che si sa capitare, si dà una miscolanza di diversi gas. L'uncata a gli giuste polari del soleil. Il soleil ha effettato di energia. Varga quittordici milioni di gradi di soli. Conqu'è chi è il soleil dato in una combinazione di gas, il sinum nau plasma. A què plasma viene con grande sperta dat alla surfaccia. A scia dati erupcions che se ten od il soleil in direzione da nessun mondo. Il plasma, che ven si tausò, sostendos coi un vendel elastico e va più e più lungo nel vento del soleil e semida in un vento. Il vento del soleil. Qua vento del soleil si muenta con grande sperta da tras l'univers direzione da nostra tiara. Quel vento del soleil viene in vicinanza dalla tiara che viene il scopo di ausente del campo magnetico e intorno al mondo. Il campo magnetico maina il vento del soleil tra il polo del nord a del sud. Che in quella forma ovala intorno ai poli, viene il gas del soleil in contatto con l'aria a farci agli già quella in differenti colori. In quale colori che il polo del soleil dipende in quale razade dell'atmosfera che la hai. In grande altezza, più a circa 30 km, dati in un giù del color coccina, ne è blau violetta, che il gas del soleil all'aria vengono insieme. In la razade più bassa, dati in un color melo verde. Più, la colori dipende in quale altezza che i diversi gas reagiscono con l'autor. La luce polare del nord viene nominata Aurora Borealis, a quella il sede Aurora Australis. Consovente che luce polare invisibili dipende feci dell'attività del soleil. Il soleil è nominata ma in buadina tutina attivs. A scia sai esser che luce polare è in situazione visibili più lunga il sede dell'Europa, cui il soleil è una fase di erupzione feci attiva. La luce polare, però, è intorno al polo del sud. In vicinanza vive il pinguin Jim Jim, ed uno dei miei amici è un umano. Joao Pereira de Sousa è stato un tì non svegli a pensionare. Il vive in Brasile, ed è pieno amico da lui ai Jim Jim, il pinguin da Magellan. Joao ha inflao Jim Jim alla riva della mar, cui quella è risturtratta da lui ad attire dalla morte. e lui è stato un pinguin. Joao ha inflao il pinguin, ed è stato un pinguin, ed è stato un pinguin più che voleva abbandonare se un'eve amici. Ma, c'è cui il pinguin l'ho più spettato? Qua è stato l'ho nel 2010? E ci è sorpresa per Joao, che il pinguin è tornato a sello in Sissù e il Madem Liu, al suo intermincione. Qua monta in lunghiadi per il pinguin? Il pinguin di Magellan viva nominati nel sito dell'Argentinia, neva che mette nel loro ovvi. Ma Jim Jim se nò da mincione rodò un 4 mili chilometri per visitare il suo amico Joao a per habitar con il 8 mani. Joao, mera del pinguin, ad andare del demigio. La cerchia di nutriment è uguale sello il motivo da quello che il pinguin è sonata nell'infuci l'angelo del nord. Ma Joao ha appartato che sia da dimmi gli imparato di avere il sentimento che Joao sia parte della sua famiglia. Che bella amici! Eoren, adesso ho deciso c'è un nome a mezzo nuovo velo Jim Jim. Emanai, velo zdroven, ero in nome. Nun, Jim Jim è re, no fanno si ne spesi ad in Zembel. Statt bei Nin e tschüss! Grazie a tutti!